Buongiorno ragazzi, salve a tutti, siamo qui in questo martedì per parlare di Europa League perché ieri c'è stato appunto il sorteggio delle urne UEFA in generale ci sono delle belle partite di Champions, Toster, alcune un po' più tranquille quindi ci sarà una sorta di selezione naturale in Coppa dei Campioni ma noi quest'anno purtroppo non possiamo ragionare su queste cose qui non abbiamo passato il turno, non abbiamo passato il girone siamo arrivati secondi e quindi dobbiamo accettare terzi e quindi dobbiamo accettare magari secondi la retrocessione in Europa League e l'urna dell'Europa League ci ha parlato chiaro, ci sarà uno spareggio contro il Nantes allora io non conosco bene questa squadra perché non seguo la Ligan non guardo partite di Ligan, quindi magari ci sarà qualcuno più esperto di me e lo aspetto, qui sotto nei commenti mi sono guardato qualche clip, in realtà, di qualche partita di Ligan del Nantes mi sarebbe piaciuto guardarle insieme, ma le regole di YouTube sono abbastanza stringenti diciamo così, quindi magari quando sarà ora, dato che si gioca il 16 di febbraio l'andata il 23 di febbraio in ritorno, faremo una live su Twitch per cercare di analizzare insieme quelle che sono le partite in generale del Nantes e cercheremo di evidenziare punti forti e punti deboli guardando qualche clip ovviamente le partite intere del Nantes facciamo un po' fatica a vederci però qualche clip per cercare di capire almeno che squadra ci troveremo di fronte si può sicuramente guardare il Nantes è passato per secondo, faccio un po' su, nel gruppo G dell'Europa League, alle spalle del Friburgo tre vittorie, tre sconfitte, sono usciti Carabag ed Olympiacos tra l'altro Olympiacos che era una squadra nel primo ciclo di Allegri che era presente anche all'interno del girone di Champions che ci ha portato poi a Berlino e invece adesso arriva quarto nel girone di Europa League sia noi che loro abbiamo avuto un lieve ridimensionamento abbiamo avuto un lieve ridimensionamento, diciamo così Nantes che passa al girone con sei gol fatti e undici gol subiti quindi queste sono un po' le pure statistiche di quello che è stato il girone di Europa League del Nantes tanti gol presi, pochi gol fatti questo sta diventando una sorta di marchio di fabbrica se vogliamo del Nantes perché vorrei cercare di andare anche un po' più a fondo con quella che è l'analisi dei dati quantomeno perché, ripeto, qui su YouTube non possiamo fare altrimenti non possiamo andare a vedere delle vere e proprie clip però mi sono preparato alcune cose di cui possiamo discutere tranquillamente insieme quindi direi di cambiare subito la grafica per andare ad analizzare quella che è la Ligan questo ovviamente lo conoscete, è il sito di Soccerment vi lascio il link per esplorare anche voi se volete tutti i dati messi a disposizione da Soccerment il link è qui sotto in descrizione e come al solito la piattaforma è completamente gratuita quindi se avete voglia di farvi un giro sono i dati che utilizzo per l'analisi ci sono anche i match report da richiedere direttamente a loro possiamo vedere che in questo momento il PSG sta comandando la Ligan sta dominando la Ligan non vediamo invece il Nant bisogna scendere bisogna andare al sedicesimo posto al sedicesimo posto ora, non ricordo bene se in realtà il Ligan retrocedono addirittura a quattro squadre e non tre fatto sta che sono lì a due punti dalla terza ultima e a un punto dalla quarta ultima si stanno giocando la permanenza all'interno del campionato quindi è anche abbastanza particolare in realtà vedere una squadra che lotta per salvarsi passare per seconda il girone di Europa League una cosa abbastanza particolare poi le cose succedono, le cose strane accadono nel calcio per il Nant in quattordici partite giocate ha collezionato dodici punti ha segnato quindici gol e ne ha subiti ventidue e quindi questo meno set parte da lì e ci sono alcuni giocatori ai quali stare particolarmente attenti come Moses Simon che qua apro e chiudo una parentesi inerente a FIFA gli hanno fatto una carta bestiale quindi se state giocando con la Ligan magari ve lo consiglio Ahmed Abdallah che da quanto ho capito è un giocatore egiziano in prestito da qualche squadra turca che ha segnato quattro gol in realtà ne ha segnati sei mi pare in totale con anche due in Europa League perché questi sono soltanto i numeri che fanno riferimento al campionato ai quindici gol segnati in campionato Ganago non è di chi sia invece Moussa Sissoko è un giocatore dovrebbe essere Moussa Sissoko questo lo stesso Moussa Sissoko mi pare che esatto che giocava al Tottenham è proprio lui quindi giocatore di esperienza un giocatore che ha giocato anche con la nazionale francese quindi direi un buon giocatore in una squadra che in realtà non sta raccogliendo chissà che cosa però è ovvio che un playoff contro la Juventus per l'accesso all'Europa League hanno tutto da guadagnarci loro ce lo stiamo vedendo è una squadra in difficoltà è una squadra senza grandi nomi è una squadra con magari qualche giocatore interessante questo Moussa Simon con 4 gol e 2 assist quindi top scorrere top assist man della squadra probabilmente uno di quelli a cui stare più attenti di tutti una squadra un po' così diciamo una squadra un po' così io ho visto qualche formazione del Nantes ogni tanto giocava con la difesa 3 3-4-3 ogni tanto giocava con la difesa 4 4-3-3 per dire in questa occasione giocava con un 4-1-4-1 quindi una squadra che magari non ha nemmeno un'identità ben chiara precisa delineata una squadra forse in difficoltà con la 4-2-3-1 quindi cambia spesso magari anche a seconda di quelli che sono gli interpreti che ha una squadra che tutto sommato non dovrebbe creare pericoli alla Juventus però qua si usa il condizionale perché credo che negli anni si sia un po' imparato a non sottovalutare gli avversari anzi perché il più grande nemico della Juventus è la Juventus stessa poi magari a febbraio saremo una squadra più compatta una squadra più tranquilla una squadra più sicura oppure saremo una squadra alla deriva completa quindi non abbiamo idea di come arriveremo a febbraio post mondiale se ci sarà un'altra preparazione non sappiamo niente cioè parlare del calcio di febbraio basandosi su quello che abbiamo visto oggi può voler dire tutto o nulla perché io ricordo sempre il Milan come è arrivato post covid post pandemia prima del covid sembrava una squadraccia post pandemia invece sembrava una squadra solida nel giro di un'altra stagione di due stagioni ha vinto la serie A quindi quando ci sono queste cose di mezzo una pandemia o un mondiale invernale secondo me c'è da stare un attimo attenti però è ovvio che basandosi unicamente su quello che abbiamo visto fino adesso invece sembrerebbe non esserci partita anche contro una Juve disastrata che comunque in questo momento sta ritrovando qualcosa almeno appunto dal punto di vista dell'animo e dello spirito questi sono sempre i dati inerenti al Nant e inerenti alla Ligan allora la Ligan ha i dati nel grafico qui a sinistra in grigio il Nant ce li ha in azzurrino come possiamo vedere è una squadra sotto statistica in ogni dato medio del campionato francese tranne nei recuperi dove è leggermente sopra però è una squadra che fa fatica è una squadra che prende una marea di gol guardate qui clean sheet praticamente mai fa clean sheet i gol fa una fatica immensa a fare gol alla media di un gol a partita alla media di un gol e rotti presi a partita quindi squadra che sta facendo molta fatica in questo momento che non sa se riuscirà a salvarsi e ci sono alcuni giocatori che si elevano sopra tutti quegli altri per dire Mosi e Simone è anche il primo per chance create all'interno della partita quindi probabilmente il giocatore offensivo più interessante per quanto riguarda il Nant è quello a cui dovremmo prestare un po' più attenzione particolare attenzione io ho visto qualche clip in cui il Nant faceva delle brutture difensive delle bruttezze difensive livelli allucinanti è ovvio che noi abbiamo fatto anche noi dei capolavori al contrario in questa stagione quindi abbiamo poco da essere contenti da essere felice da vantarci però io sono dell'idea che se la Juventus riuscirà nell'impresa di uscire contro questo Nant e non andare avanti nemmeno in Europa League beh c'è poco da dire nel senso loro sono una squadra tranquilla tra virgolette l'urna è stata benevola c'erano squadre decisamente peggiori mi piacerebbe andarla a vedere là in trasferta adesso io e Lello ci organizzeremo per una seconda trasferta in Francia dopo quella di Parigi di quest'anno appunto ragiono sui francesi che quest'anno abbiamo affrontato e ci hanno buttato fuori ragiono su una squadra gialla che l'anno scorso abbiamo affrontato in Europa e ci ha buttato fuori quindi i presupposti sicuramente non sono sorridenti credo che non si debba sottovalutare l'avversario è una partita che va approcciata con lo spirito di una Juve che si trova in una posizione che si è meritata che solitamente non le compete ma che si è meritata perché non siamo una squadra Champions vedremo se potremo essere almeno una squadra dell'Europa League sulla carta il sorteggio è stato benevolo ma troppe volte negli ultimi anni abbiamo detto questa cosa per poi essere eliminati quindi parola d'ordine cautela e meritocrazia perché spero che si possa andare avanti meritando di passare il turno e spero che possa venire fuori almeno una buona Europa League almeno quella che si fa